La neve era alta, uscendo dai carri tiepidi. Fumo assaliti dal freddo come da un altro carnefice che veniva ad aumentare le nostre torture. Arrivamo ad una svolta vertiginosa. Tutto era silenzio, tutto era muto. Si sentiva soltanto con cadenza ineguale lo scalpiccio dei piedi sulla neve. Poi ad un tratto fumò ai piedi di una collina circondata da un fitto bosco e qui cominciò la nostra triste salita. Salimmo lentamente e poi spucammo in una larga curva e ci trovammo di fronte ad un immenso portone. Facciamo il nostro ingresso nel campo verso sera. Cominciava a imbrunire. C'era la neve gelata, freddo. Ci ha messo nudi, completamente in uno stanzone. Siamo entrati nelle docce, fredde, fredde, gelate. Poi ci hanno dato un pantalone, una camicia e abbiamo dormito nelle docce, lì, lì, nel bagnato, senza niente per terra. Nella notte ne sono morti subito due o tre. Le SS ci cacciarono tutti sotto le docce, prima caldissime, poi gelate, e con i randelli non ci permettevano né di gridare né di evitare le scottature e i getti. All'uscita delle docce furono distribuiti a ciascuno di noi un paio di zoccoli, una camicia e un paio di mutande. E' stato un colpo di fortuna dichiararsi all'arrivo autisti. Io e mio fratello, che era del 25, eravamo studenti. Sapevamo guidare la macchina. Avevamo questa passione e ci siamo dichiarati autisti. E' stata la nostra fortuna. Senza quello probabilmente non saremmo tornati, perché invece di essere mandati a lavorare nella cava, abbiamo lavorato in fabbrica. Era molto diverso. In quel momento lì abbiamo giocato la nostra sorte, senza saperlo. Quel autista è stata la nostra fortuna. Fortuna, beh, relativa a fortuna. La nostra vita nel campo era questa. Al mattino alle cinque la sveglia. Tempo quello stretto, possibile e immaginabile per i bisogni corporali. E poi ci davano quel poco di caffè che lo chiamavano caffè. Po' d'acqua calda, sporca. Nel campo c'erano gli ebrei e poi c'erano gli italiani. I maltrattati più di tutti erano gli ebrei, poi venivano gli italiani. Quando c'erano gli ebrei, lavori peggiori li facevano loro. Quando non c'erano gli ebrei, i lavori peggiori li facevano gli italiani. Portare via la merda, portare via i morti, era il lavoro degli italiani. Noi, secondo i tedeschi, eravamo dei traditori. Il nostro calvario non potrà essere molto lungo, penso, desolatamente. Non abituati al clima, spogliati delle nostre maglie, dei nostri vestiti di lana, buttati così, mezzo alla neve saremmo uccisi da una polmonite, prima che dalla fame o dalle botte delle SS. Alla doccia un medico jugoslavo, prigioniero come noi, ci passa in visita. Io cerco di spiegargli che la mia salute non è molto forte, ha speranza di evitare lavori duri. Il dottore mi interrompe. Se vuoi salvarti, devi essere sempre sano. Io gli domando ancora se a Mauthausen si potrà vivere. Egli risponde affermativamente. Se sarai un ragazzo in gamba e saprai tenere gli occhi bene aperti. I rapporti tra i prigionieri? No, non ce n'erano e non si poteva sopravvivere in quelle condizioni. Non si poteva. Uno non poteva resistere perché le botte che prendeva. Tutti i santi giorni una legnata. Oltre al mangiare erano le botte che ti rovinavano, che ti ammazzavano. Per un niente, niente di niente, ti davano 25 frustate sul sedere. E se riuscivi a resistere, te ne davano 10, 12. Se non riuscivi a resistere e ti mettevi a gridare, te ne davano 25. I rapporti tra noi italiani erano buoni, però con gli altri nessuno ci poteva vedere. Era difficile avere aiuti. Avevamo fatto la guerra con tutti. Poi siamo stati tra gli ultimi ad arrivare nel campo. Erano rapporti fra disgraziati. Il ruolo dei capò era di tenere a bada noi e di fare in modo di renderci la vita la più dura possibile. Farci morire. Il capò aveva il compito di fare in modo che nel campo tutto funzionasse alla regola, come stabilito dal regolamento. Ah, era infernale. Era infernale. Dire infernale è dire poco. Un conto è averlo letto. Un conto è averlo sentito raccontare. E' un conto è averlo vissuto. È una cosa terribile. Io non capisco come un uomo possa arrivare a distruggere un suo simile con certi mezzi, con certi sistemi.